Dalla base aerea di Trapani-Birgi, un elicottero HH-139A con un equipaggio dell'82esimo centro Oxar dell'Aeronautica Militare di Trapani, nel primo pomeriggio di ieri è decollato per una missione di soccorso per recuperare un uomo di 49 anni, feritosi accidentalmente. Sono stati necessari solo 19 minuti per allestire l'elicottero e decollare in direzione di Boscan-GB nei pressi di Caratafini. Arrivati in zona, l'equipaggio ha immediatamente iniziato le operazioni di verriciallo per calare al suolo l'aerosoccorritore, che rapidamente si è diretto verso il punto di recupero, inaccessibile da ambulanze o altri mezzi di soccorso, dove li attendeva un medico del 118 e il cacciatore ferito. Predisposto e messo in sicurezza l'uomo per il recupero con Baralla, l'equipaggio ha eseguito l'estrazione tramite verriciallo del paziente e del medico, lasciando la zona in poco tempo. 15 minuti dopo l'intervento, l'aero dell'aeronautica militare è atterrato presso l'ospedale civico di Palermo, dove il 49enne ferito è stato affidato alle cure mediche e dell'autorità ospedalieri locali. L'intervento è stato avviato su richiesta dalla prefettura e coordinato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico, che ha attivato l'equipaggio in prontezza d'allarme H24 dell'82esimo centro Xal. Grazie!